Allora, sono l'autista di Ciaccio e oggi lo accompagno a Riccione, mi paga abbastanza bene, tutto bene con lui perché è tranquillo, lo vado a prendere a casa, ho dei bonus, quindi oggi dov'è che ti devo portare? A Piazzale Seccarini, andiamo lì, un aperitivo te lo fai volentieri, quello no? Lo pago io, tu non hai mai pagato niente, pago io, oggi pago io, Piazzale Seccarini, va bene, dopo casomai ci fermiamo lì verso le 9, se succede qualcosa, forse viene Urietta Berti, va bene, ciao!